Salve a tutti, benvenuti alla bottega didattica, sono Gianfranco Amarini e in questo tutorial vorrei parlarvi di Vailog. Vailog è un ambiente free che permette di utilizzare i video nella didattica in modo da farne oggetto di discussione all'interno di una classe, tra gli studenti, con il docente e così via. Vailog è una parola contratta che mette insieme video e dialoghi. Quindi, Vialoghi sarebbe tradotto in italiano. Ed è stato pensato proprio per realizzare un utilizzo più significativo dei video nella didattica. L'alunno non si limiterà a passivamente osservare il video che l'insegnante gli ha proposto, ma potrà interagire con il docente o con gli altri studenti, dialogando attraverso una sorta di chat testuale, rispondendo a delle domande e così via. Questo è Vailog, la pagina iniziale, Vailog, come si vede, ecco qui il link, basta cercarlo su YouTube. E qui vediamo il concetto fondamentale che cercavo di esprimere prima, e cioè mettere insieme video, dialoghi, in un unico ambiente, per poter interagire con gli studenti. I passaggi sono i seguenti, si crea un dialogo, si invitano gli studenti a partecipare, si interagisce con essi discutendo tramite una chat testuale, si può condividere anche in un sito, in un blog, in un forum e così via. Naturalmente dovremo prima di tutto registrarci, e per registrarci clicchiamo Sign Up. Dovremmo compilare questo form, questo modulo, che è il solito modulo di registrazione. Io sono già registrato e quindi mi loggerò al mio account. Ecco, sono nel mio account, posso esplorare, per esempio, cercare di vedere degli esempi di altri video. Ecco, cerchiamo adesso tra i video più attivi, tra i dialoghi, chiedo scusa, più attivi. Vediamo, per esempio, che qui abbiamo un dialogo, che contiene 127 commenti, quindi una discussione con 127 interventi, e dura 53 minuti, questo è il titolo. Da qui posso accedervi. Accedendovi, ho una schermata, che è quella tipica di ogni dialogo, in cui ho sulla sinistra, in alto, il video, che posso guardare, cliccando. Adesso ho fermato il video, qui sulla sinistra ho invece i vari interventi, sono in tutto 127, questa è la descrizione del video, e questi sono i vari interventi. Come vedete, ogni intervento sulla sinistra presenta il tempo. Questi sono interventi che sono stati ripostati al primo momento. Infatti, il concetto di dialogo, io posso ascoltare il video e guardare il video, e poi inserire nel momento preciso in cui mi interessa un commento, una domanda, una richiesta, un dubbio, che verrà registrato in quel momento preciso. Adesso scendo un po' per farvi vedere. In realtà si tratta di link, se io clicco qui, ecco, questo è il nome della persona che ha postato il link, se io clicco qui, mi riporta nel punto in cui questa persona ha inserito il suo commento. Posso anche rispondere direttamente, cliccando qui e scrivendo. Bene, ritorniamo nella pagina iniziale, e vediamo che qui in basso ci sono i miei dialoghi. Io ne ho realizzato uno soltanto. Come si fa a crearne un altro? Ovviamente clicco su Create. E qui ho la pagina che permette di creare il mio dialogo. Ovviamente ho bisogno di un video. Il video posso caricare, posso procurarmelo in tre modi differenti. New, existing YouTube Vimeo. New significa che, cliccando su Browse, posso caricare un video dal mio computer. O dal mio account. Gli darò quindi un titolo, una descrizione. E ho caricato il mio video, e a partire da quel video posso cominciare il mio dialogo. Oppure posso cercare un video già esistente su Vialog, andrò su Explore, ne cercherò uno, e qui metterò il link. Oppure, ed è questa la strada che sceglieremo, incollerò il link di un video che mi sono procurato o su YouTube o su Vimeo. Ecco, io incollerò in questo caso qui una video-lezione su Aristotele che ho realizzato qualche anno fa. Una volta incollato il link, cliccherò su Attaccio. Ecco, il mio video è pronto. A questo punto io devo creare, usando il video che ho linkato, il mio dialogo. E lo chiamerò Introduzione ad Aristotele, per esempio. La descrizione, adesso per comodità e semplicità copierò e incollerò la descrizione su YouTube. Presente su YouTube. Ma qui potrei scrivere le consegne per i miei alunni, per esempio. Potrei scrivergli cosa devono fare con questo video, e così via. Poi il video potrebbe essere pubblico. Selective sta per... Possono partecipare tutti quelli che lo fanno richiesta, ma la richiesta deve essere accettata dal moderatore. Io lo lascerò pubblico adesso. Poi abbiamo i moderatori. Il moderatore può essere il docente, in questo caso sono io, indicato con la mia mail. Oppure posso inserire la mail di uno studente, o di più studenti, che potranno anche loro moderare. Accettare commenti, cancellare commenti, inserire sondaggi, inserire commenti, rispondere, insomma gestire come fossero anche essi degli insegnanti. Qui posso disabilitare o abilitare i commenti, o chiaramente li abiliterò. Bene, a questo punto ho concluso e posso salvare le impostazioni del mio dialogo, cliccando sul pulsante blu, crea il dialogo. Ecco qua, questo è il mio dialogo, vediamo che ho a disposizione sulla sinistra il video che ho caricato. Questa è la descrizione con le consegne per gli alunni, non c'è nessun commento, mi viene segnalato. Qui ho una scheda in cui ho varie informazioni, per esempio le informazioni sul video, per esempio il link per poterlo condividere magari con i miei alunni, ho per esempio il codice per inserirlo nel mio blog, se ho un blog, eccetera, eccetera. Le statistiche, quante volte è stato visto, quanti commenti ci sono e così via. Come è possibile inserire i commenti? È molto semplice, vediamo prima di tutto come funziona l'anteprima video. Clicco qui e il video parte, e adesso tolgo il suono per comodità, e decido per esempio, posso guardarlo, chiedo scusa, anche a schermo intero, adesso si vede ancora a bassa definizione, lo sta acquisendo l'alta definizione, e dicevo posso inserire, ecco adesso è ad alta definizione, oddio, non si vede ancora benissimo, ecco qua, dicevo posso inserire un commento, come fare a inserire un commento? Ecco, vedete che qui sotto il video, sotto l'anteprima video c'è una finestra, basta cliccare qui dentro, e io inserisco il mio commento, ma a questo punto posso cliccare su post, e il mio commento verrà pubblicato, eccolo qui. Adesso per comodità andiamo un po' avanti, per esempio, vado qui, e a 4 minuti e 21 inserirò un quiz, una risposta a scelta multipla. Ecco, come vedete io ho già scritto qui la domanda, qui due risposte, per aggiungere un'altra risposta, clicco sul più, e scrivo qualche altra cosa, Aristotele era spettinato, a questo punto posso postare, cliccando su post, la mia domanda. Ecco qua, qui mi si mostra i commenti, il primo a 0,25, il secondo a 8, perché me lo mette a 8, non capisco, va bene. Poi proviamo ad andare qui, e inseriamo, siamo al 13, a 13 minuti, è 0,1, e inseriamo un post da professore del tipo fate qui le vostre domande se non avete capito qualcosa, post. Ecco, adesso non inserirò altri per brevità, a questo punto ho terminato, avrò qui sulla destra, come si vede, le varie domande, posso cancellarle, selezionando questo simbolo, proviamo, mi chiedevo realmente cancellare, gli dico no a nulla. Bene, qui nascondo il commento e mostro solo le domande, era qui, posso passare un momento all'altro del video. Vediamo adesso cosa succede quando l'alunno si trova a dover osservare, guardare un dialogo preparato, predisposto dal docente, prima di tutto, però mi devo procurare il link. Clicco su share, e incollerò questo link, lo copio, lo seleziono, lo copio, ah no, ho un magliato, facciamo così per sicurezza, e mi disconnetto. Ecco, ho creato, ecco qua, adesso sono disconnesso, inserisco il link che ho copiato, eccolo qua, mi dice, loggati se vuoi commentare questo dialogo. Mi loggo, questo è il finto alunno che ho creato. Chiedo scusa, eccomi qua. Ecco, l'alunno può, come vedete, vedere il video, lo farà scorrere, lo ascolterà, può inserire un commento, ma che bella spiegazione, questo è un commento di ammirazione dell'alunno verso il suo professore, oppure può, per esempio, recarsi al minuto 8.29 cliccando sul link, vedete, ascolterà ciò che il prof dice, magari con lo schermo intero, e poi proverà a rispondere alle domande, Aristotele era ovviamente più bello. e la sua risposta verrà recepita, oppure vorrà fare delle domande, e allora si reccherà qui, cliccherà qui, e chiederà, non ho capito una cosa, ma dobbiamo studiare veramente questi tizi, che è la domanda che sorge spontanea agli alunni, e il professore dovrà replicare a questa domanda. Bene, potrebbe fare altre cose il nostro alunno, potrebbe andare oltre, potrebbe inserire un nuovo commento qui, può rispiegarla in classe, per esempio, e così via. Diciamo che abbiamo terminato, può replicare a questa, era un alieno proveniente da una vita, grazia, e adesso, naturalmente, farò il contrario. esco, e mi ricollego, questa volta, come professore, per vedere dell'attività dell'alunno, cosa è visibile al professore. ecco, vediamo, prima di tutto, che nelle notifiche, se clicco qui, mi viene mostrata tutta una serie di notifiche, che mi arriveranno anche nella mail, dove mi si dice che l'alunno Jan Farco ha replicato i miei commenti, ed ha guardato il video. Andiamo a vedere New, vedete, questa è nuova, un nuovo commento che non ho ancora visto, posso anche andare a vedere tutti i commenti direttamente di Jan Farco, a cui Jan Farco è uno studente, stanno partecipando due persone, posso adesso tornare al mio dialogo, cliccherò qui, queste sono le domande, ecco, questa è la risposta di Jan Farco, posso andare qui, e a mia volta, chiedo scusa, ho sbagliato, e a mia volta commentare, quindi cliccherò qui e inserirò una risposta, sì, dovete studiare tutto. Naturalmente potranno partecipare a questo dialogo sul video anche gli altri allunni, vediamo adesso un po' come faccio a vedere, per esempio, le risposte degli alunni e altri dati. Bene, andiamo nel mio profilo, clicco in alto a destra, visualizza profilo, questo è il mio profilo, queste sono le mie due lezioni, cliccando sulla rotellina, accedo alle informazioni sul dialogo, vedete, che qui posso modificare i dati iniziali relativi al dialogo, in polls, ecco, ho i quesiti, i sondaggi, cliccando sulla domanda mi appariranno le risposte, ecco, rimane un'ultima questione, come posso condividerlo con i miei studenti? Certo, potrei creare un gruppo su dialog, ma a questo punto mi troverei, dato che uso tante applicazioni web di tanti tipi e per fare tante cose, a dover creare in ognuna di esse una classe, anzi più classi, a dover far registrare gli alunni in ciascuna classe, a dover, insomma, sarebbe una cosa veramente ingestibile, quindi conviene scegliere un ambiente di social learning LMS in inglese, cioè sistema di gestione dalle classi come può essere Edmodo, Social Classroom e altri, io uso Edmodo in questo periodo, e postare il link su Edmodo, in modo che io su Edmodo mi faccio le mie classi e faccio sempre riferimento a quelle classi senza dover, per ogni applicazione che uso, creare ogni volta le classi. Bene, come faccio a ottenere il link l'ho già mostrato, comunque possiamo rivederlo, Public è chiaramente qui aperto a tutti, selettivo, ecco qui, posso indicare i partecipanti con la loro mail, oppure più semplicemente dato che ho la classe su Edmodo, copio questo link su Edmodo e lo condivido con i miei studenti che da Edmodo potranno accedere al dialogo e parteciparvi. Bene, sono stato prolisso come al solito, e mi scuso come al solito, buona giornata a tutti, arrivederci. a tutti, a tutti. Grazie.